allargati è l'unica cosa da poter chiuderla devi stringerla tutta devi stringerla tutta però l'ho fatta devi arrivare su lungo così ma poi la chiudi tutto di colpo di modo che dietro te la trascina dentro da solo perché si appoggia la pianta e te la tira dentro se cerchi di allargarla un pelino perché sopra poi c'è quella pietra lì sì ma non guardarla la allarghi sulla pietra il davanti dietro ti va dentro nella scala la pianta ti viene dietro non chiuderla immediatamente perché se no ti tocca la pedivella nella pianta ma se la chiudi un filino dopo te la tira dentro da sola sì dopo è stato culo però prima l'ho presa troppo stretta adesso sono andato su troppo lungo no anch'io se la allarghi ti ciula perché dopo hai il sasso che ti ferma al dietro e non riesci più a girarla lui non ci è arrivato eh ma anch'io lì cambio io faccio tutta prima poi là faccio seconda per arrivare su perché se no è troppo corta adesso voglio fare anche una fatta in prima no è troppo corta prima l'ho chiuso subito non c'è incastrato poi l'ho chiuso a troppo alta e spero di chiuderla devi chiuderla Michele prendi il sasso il sasso è lì così lo prendi qua in alto ma la chiudi subito appena il davanti ti è passato di modo che il dietro ti va a finire nella pianta il sasso te la tiene dentro e ti passi giù fuori se no non ti esci eh su là il problema qua vieni qua raddrizzala e arriva fino a qua bravo passa qua perché se tu passi su questo poi la puoi chiudere chiudi chiudi e vai via bravo così era giusta chiudi e vai via quando l'hai fatta così che l'hai chiusa non ti fermare però vedi che l'ho sbagliato ha chiuso e ti fermi qua invece vai via piano e la fai minchia mi sono pestato gambe e braccio basta un culo provala provala da lì provala vedi anche lui si è fermato non ti devi fermare qua io uso il boccino lì appena appena chiudi così vedi che è giusta e dopo per la devi star su per star su devi quando la chiudi che ti si ferma dentro il dietro ti devi fermare dopo la lasci correre giù pianino vedi che era giusta però quando scendi fermati sulla pianta di modo che ti si ferma sulla pianta dopo riesci a stringerla perché se tu la fai fai pianta e scendi passi fuori sotto invece passa stretto in alto grazie